Presidente, gara che ha sancito la vittoria dell'Aurora Alto Casertano e che ha sancito anche la fine di questo stranissimo campionato. Strano infatti, è la prima volta che un campionato di eccellenza viene assegnato con una finale unica, secca. Non poteva essere diversamente perché non c'erano altri presupposti. E' stata una scommessa, era più facile rinunciare a continuare l'attività ma invece abbiamo voluto scommettere. Sette società ci hanno dato fiducia e oggi abbiamo terminato questo percorso. Intanto un segnale forte che il calcio è molto vivo e si può ripartire con le credenziali fino a quando non è scoppiata la pandemia. Speriamo che la prossima stagione, insomma, sicuramente non debba avere tutti questi problemi. Ma siamo quasi convinti, siamo certi che con la vaccinazione che sta accelerando ci darà la possibilità di partire e partire bene per la prossima stagione. Noi già stiamo lavorando, c'è anche molta attenzione da tante società, tanti chiedono quando si riparte e ripartiremo alle date stabilite della scorsa stagione. Da dove ci siamo fermati? Con tutti i campionati. Continuiamo a fare un po' di attività giovanile per il mese di giugno, proprio per ricreare le condizioni ottimali che tutto ritornano ad amare e ad appassionarsi in questo bellissimo gioco che è il gioco del calcio. Lo sport, credo, più con una rilevanza forte a livello nazionale ma a livello mondiale. Volevo anche un suo commento sul ritorno del campo basso in terza serie, in serie C. Ma io l'ho detto, lo ripeto, era un'aspirazione della stessa federazione. Un'opportunità, credo che purtroppo è durato due anni la possibilità di questo ritorno. Ci sono riusciti, sono stati bravi, una società che fa sperare benissimo per il futuro, dove ci sono tutte le condizioni per poter fare bene. Avere nel calcio regionale anche il calcio professionistico, credo che è un vanto della federazione ma una grande opportunità anche per i tanti giovani nostri che giocano nei campionati minori perché ci hanno dentro casa l'opportunità di poter eventualmente fare come lavoro proprio l'attività del calciatore.